Il calendario prevedeva ieri la trasferta insidiosa nel Salernitano, ma in realtà a vincere è stato il Covid-19, che ha colpito ben 5 giocatrici campane. Niente partita allora, ma lo stop è occasione utilissima per fare un primissimo bilancio di quanto già accaduto. In una stagione iniziata, come si prevedeva a Sindiozzo, la Polisportiva ha già raccolto 7 punti nelle prime tre partite, 2 i successi e pure Roboanti, Rottaglie e Napoli, e poi il pareggio all'ultimo respiro contro la corazzata Molfetta, nel primo storico Derbina 2. 28 le reti messe alle spalle dei portieri avversari, 6 quelle incassate, di cui la metà per errori individuali. Certo, sarà prematuro per fare qualsiasi discorso di sogni di gloria, ma Maria Giovanna Tempesta e compagne hanno messo in bella mostra già due aspetti. Il primo, non voler essere una semplice e no promossa, pronta ad accontentarsi del contentino chiamato salvezza. Il secondo, essere una compagine piena zeppa di qualità e quantità, in tutti gli elementi, compresi quelli che sono stati in campo pochi minuti. Il percorso che si presenta lungo e tortuoso e per il momento preda nella bestia più feroce chiamato coronavirus è soltanto ai nastri di partenza. Il percorso che si presenta lungo e per il momento preda nella bestia più feroce. Il percorso che si presenta lungo e per il momento preda nella bestia più feroce.